Non ci credo Wow 64 Su TM18 Oh mio dio Che fluk No in realtà non è un fluk Perché io ero morto Oddio Che percentuale Il mio massimo era sul 30 Qualcosa Se non mi sbaglio sono un 32-33 E sono arrivato al 64 L'ho tutta una botta Che culo comunque me l'aspettavo di morire qua Perché è cancro Quella parte E' la parte più difficile del livello Porco dio Di nuovo 68 Sì Leo De Ligon Come l'ho fatto Come ho Zanna Oh Axe No 71 Tu sei bellissima Ma tu cosa? Ti ame di gioco Vai Mastro Mastro Silenzio XB 83 Oddio Amore sono infogliata 83 Sì Mi sono forse 83 Di nuovo Perché? Io non so più che fare Io non so più che fare 94? Non ho capito Ehm Mi sa che forse Ok Ho capito una cosa Mai sottovalutare il finale Anche se sembra facile Ti prende per il culo lo stesso 37 Di nuovo 96 96 96 La wave Sì Sono morto in quell'ingranaggio del cazzo che non vedo mai Manco io lo vedo mai Però lo supero delle volte Evviva l'autismo Iscriviti on Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.